Dialoghiamo, questo il tema della quarta edizione del Festival del Creato che si terrà il 20, 21 e 22 settembre a Chieti in piazza Giovanni Battista Vico. L'evento curato dall'ordine francescano secolare punta quest'anno sul dialogo interreligioso con una serie di appuntamenti che vedranno la partecipazione anche dell'arcivescovo della diocesi di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Questo è il tema proprio del quarto Festival del Creato qui a Chieti. È stata scelta questa tematica proprio perché quest'anno ricorre gli 800 anni dell'incontro tra Francesco e il sultano d'Egitto. Poi anche il Papa quest'anno a febbraio ha fatto questo incontro tra lui e Abu Dhabi con l'imam dell'Egitto. Quindi è un tema proprio sul dialogo, diciamo in comunione con il Festival del Francescano di Bologna, da dove siamo in comunione da diversi anni. Un festival che vuole proprio sottolineare in questo tempo dove si fa fatica a dialogare, lo vediamo da tutte le parti, di dialogare. L'importanza è che l'ultima parola in tutte le nostre dimensioni, anche se siamo di religioni differenti, di appartenenze politiche differenti, di razze diverse, il dialogo è la parola più importante per costruire una società del futuro sana e importante. Questo è anche un momento per riflettere. Sì, proprio perché è un momento per riflettere, abbiamo pensato a tanti momenti, quindi ci saranno momenti dedicati all'arte con alcune mostre, delle conferenze, delle tavole rotonde, delle attività workshop proprio per i giovani, per la scuola. Quindi abbiamo cercato di prendere tanti aspetti culturali e soprattutto tutte le fasce di età. Quindi siamo proprio attenti ad adulti, giovani, proprio perché è una tematica che interessa. Ci saranno anche delle tavole rotonde o delle conferenze, delle fast conference, dal punto di vista psicologico, economico, sull'imprenditoria giovanile, proprio per dare spazio a tutti.